buonasera e ben ritrovati a voi tutti cari amici fan dal vostro nicole de lucia stavo seguendo la partita di nba gilin che è terminata da poco tra area bay oaks lakeland magic e proprio lakeland magic che sono imposti per 121 99 con i seguenti parziali regia al quadro 11 32 32 65 69 a 100 e punto 121 a 99 nella classifica e lakeland godono assolutamente di di un di un piazzamento playoff nella divisione sud est con 19 vittorie 12 sconvitte torneranno in campo tra pochi giorni però mi sa in orario notturno questa partita invece si è giocato notturno italiana si gioca dalle 17 italiane quindi parliamo delle 10 11 di mattina america quindi ribadisco per il posticipo dal turno di nba gilin che legland magic si sono imposti in casa del l'area bay oaks 121 99 non andate via ve lo prometto arriva l'ultimo l'ultimo video però ci vuole un po di tempo dedicato all'eurolega grazie a tutta la prossima ciao